Sai cos'è il problema? Qual è il vero problema Gio? E' che la gente se ne fotta No Giovanni Vernia Sì Il peggio di RDS A casa è più bello e si vive meglio e da un mese che lo dice il presidente del consiglio sul divano stai sbragato hai preso la forma, mangi ogni minuto diventi un pachiderma è tutto più tranquillo pure il vicino e non esiste traffico e non c'è casino ma dopo un mese brutto la gente si stressa e dopo se ne fotte va fuori di testa ed escono un po' tutti che c'hanno le scuse si inventano che devono fare le spese ed escono le leggi quelle dei governi le certificazioni cambiano a giorni alterni la gente se ne fotte ed esce fuori sempre non si può mica stare in casa fino a dicembre tutti insieme vai no scherzavo non lo fai la gente se ne fotte e porta in giro i cani senza la mascherina senza i guanti dalle mani feste comunioni corsette gite al mare la gente per uscire non sa più che inventare padroni di locali spogliarelliste camerieri metronotte ladri e anche noi artisti teatri e parrucchieri fotomodelle da un mese stanno a casa mangiano pan di stelle e ho visto la vicina che stava a dieta e adesso c'ha la panza che le fa la piega speriamo manca poco vi faccio un appello la gente ora sbrocca e tira su un bordello mi chiamo giovanotti se ne fotte e faccio il dj questa è la quarantena giorno 26 vabbè ragazzi grande 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 la gente se ne fotte sei peggio di rds con voi